Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi continuiamo a parlare di adozione. Continuo il mio racconto, quello che vi sto facendo ormai da diverso tempo, riguarda tutte le nostre tappe di adozione che ci hanno portato all'incontro con Katia. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Se vi ricordate, durante l'ultimo video vi avevo raccontato di come siamo arrivati ad ottenere l'idoneità. Allora, se ve lo siete persi, ve lo lascio qui e in ogni caso in infobox trovate il link alla playlist relativa all'adozione, così potete recuperare tutti gli altri video. Dopo aver ricevuto l'idoneità che è necessaria per procedere con l'adozione internazionale, siamo passati alla scelta dell'ente. Allora, prima di parlarvi di questo, voglio dare un paio di chiarimenti. Primo fra tutti, il fatto che per adottare all'estero è necessario avere questa idoneità, mentre per adottare in Italia, quindi adozione nazionale, basa semplicemente il colloquio, l'udienza con il giudice che si tiene, insomma, dopo aver fatto il percorso con gli assistenti sociali e la psicologa. Secondo chiarimento che voglio fare fin da subito è che l'adozione nazionale è completamente gratuita dall'inizio alla fine, mentre l'adozione internazionale è a pagamento. Lo dico fin da subito perché è una cosa sulla quale c'è un sacco di confusione. Quindi, soltanto chi adotta all'estero paga. Che cosa si paga? Si pagano circa 5.000 euro, e questo vale per qualsiasi ente voi troviate, per le pratiche italiane. Quei 5.000 euro verranno usati dall'ente per pagare i propri dipendenti, l'avvocato, il traduttore, la psicologa e così via. Quindi sono soldi che voi sapete perfettamente dove vanno a finire, sono comunque per pagare il lavoro che l'ente fa per voi. Un'altra parte di soldi, e questa varia da stato a stato, sarà invece destinata alle pratiche estere. Quindi a pagare tutte quelle spese che vengono fatte all'estero, escluso viaggio dei genitori per andare a prendere il bambino. In questo caso io non ci sono mai arrivata, quindi alla fine non abbiamo adottato all'estero, anche se avevamo iniziato le pratiche, quindi non so di preciso ogni centesimo, ogni euro dove andrà. Però vi dico fin da subito che a me non piace l'idea di pagare, si paga per comprare il bambino. No, non funziona così, togliamocelo dalla testa. Certo, l'adozione dovrebbe essere sempre gratuita, tranne le spese vive magari proprio di chi effettivamente ha svolto un lavoro per noi. Su questo siamo d'accordo, purtroppo al momento non è così perché ogni stato ha le sue leggi, ha le sue regole e sicuramente ha i suoi interessi, però ecco per l'appunto non mi sentirei a mio agio e non mi sentirei di dire una cosa giusta se dicessi che si comprano i bambini, non è così. Semplicemente degli stati richiedono dei pagamenti più o meno sostanziosi per il lavoro che viene svolto lì e per permettere l'incontro tra la famiglia e il bambino. Bene, adesso procediamo. Come si sceglie l'ente? Prima di tutto l'ente è quel gruppo di persone che ha rapporti con lo stato estero perché gli stati esteri non contattano mai direttamente la coppia ma contattano l'ente che si occupa di quella coppia per proporre un abbinamento. Gli enti ci sono più grandi, più piccoli, quindi che lavorano con tanti stati, 14-15 stati o che lavorano con 1, 2, 3 stati. In realtà questo non vi deve assolutamente influenzare perché non è un fattore determinante nella buona riuscita di un'adozione, anzi. Come si fa a scegliere l'ente più giusto? Bene, vi dico come abbiamo fatto noi perché sì, noi abbiamo iniziato il percorso anche di adozione internazionale, oltre a tenerci aperto quello dell'adozione nazionale, perché volevamo che tutte le porte possibili fossero aperte per permettere al destino veramente di fare tutto quello che doveva per farci trovare nostro figlio o nostra figlia. Quindi per scegliere l'ente il primo consiglio che vi do è scegliete enti che siano nella vostra città o nella città più vicina, nel nostro caso era Firenze. Questo perché dovrete recarvi lì a lente più di una volta, piuttosto spesso, e sicuramente se abitate a Milano scegliere un ente che ha la sede a Napoli o nel sud Italia, o ha tante sedi nel sud Italia, non è comodo e non avrebbe neppure tanto senso. Quindi una volta che avete trovato quali sono gli enti che fanno parte della vostra città, andate sul loro sito internet, perché loro hanno praticamente sempre delle statistiche, quindi potete vedere con quali stati lavorano, come lavorano, quante adozioni sono state portate a termine negli ultimi anni e così via. Anche questo vi darà un'idea di come possono lavorare, insomma, la loro efficienza e vi permetteranno di fare una cernita. A questo punto valutate anche gli stati con i quali lavorano. Vi faccio un esempio. Noi, quando abbiamo adottato noi, l'Africa era praticamente tutta chiusa, nel senso che quasi tutti gli stati africani in quel momento non stavano dando bambini in adozione. Quindi è ovvio che se trovate un ente che lavora solo con stati che al momento sono chiusi, non ha neppure senso informarvi o andare a incontrarli. Questo voglio dire, anche perché sarebbero loro i primi a sconsigliarvi di stare con loro. Però, appunto, se invece vedete che ci sono altri stati che invece sono belli operativi, vi merita approfondire. A questo punto avrete, non so, una rosa di 4-5 enti, forse meno, e potrete contattarli per fissare un appuntamento. Loro di solito fanno delle vere e proprie giornate di incontri con i genitori, con i futuri genitori adottivi, per spiegare e per fare una panoramica di come lavora l'ente. Quindi andate lì, perché questo è importante anche per capire un po' a pelle se quell'ente fa per voi o no. Non vi fate ingannare, come ho detto prima, dal numero degli stati con cui lavorano. Perché un ente grande magari lavora con tanti stati e quindi questo vi dà una sorta di sicurezza, nel senso che se qualcosa dovesse andare storto nello stato dove siete destinati e quindi, non so, lo stato chiude, c'è qualche cambiamento politico, è molto rallentato, eccetera, l'ente vi può indirizzare verso un altro stato. Però è anche vero che gli enti più piccoli sono comunque molto seri e sono molto più attenti degli enti più grandi ai bisogni specifici della coppia. Quindi sono un po' più presenti, c'è un contatto un pochino più intimo con i referenti che secondo me non è da sottovalutare. Inoltre, gli stati del mondo vi garantisco che non danno la precedenza agli enti più grandi. Cioè, loro danno la precedenza alle coppie. Cioè, se una coppia è per loro perfetta per quel determinato bambino, la contattano, che sia di un ente grande o di un ente piccolo. Noi siamo andati agli incontri di due enti, uno dei quali però purtroppo stava subendo dei rallentamenti negli stati dove lavorava e quindi alla fine ci siamo orientati verso l'altro. Quello che abbiamo scelto è un ente grande, uno dei più grandi d'Italia. Non dirò il nome perché non vorrei che qualcuno mi denunciasse, perché non ne parlerò bene, quindi non vi dico chi sono, però vi posso dire che non ci siamo trovati bene nonostante fosse un ente molto grande. All'incontro conoscitivo, insomma, ci erano sembrati molto seri e capaci. Ci hanno dato addirittura un foglio con tutte le spese che avremmo dovuto sostenere in base allo stato che avremmo scelto. Ma in realtà c'è stato anche un incontro privato con loro che ci hanno consigliato un determinato stato rispetto a un altro. Su questo vi dico che è giusto fare così. Fatevi consigliare perché molto spesso loro sanno, non molto spesso, loro sempre sanno come funziona un determinato stato. Quindi a noi per esempio dissero all'inizio per voi io vi suggerirei la Cina o il Peru. Ma in questo momento in Cina hanno rallentato le pratiche di adozione. Ci sono tante coppie in attesa, quindi secondo noi al momento vi merito orientarvi più sul Peru perché il Peru, che ne so, nel nostro caso ne volevamo anche due fratelli quindi erano più propensi anche a dare, appunto, in adozione due fratelli, eccetera. Quindi ci hanno indirizzati verso questo stato. A questo punto noi abbiamo dato il mandato a questo ente, abbiamo scelto definitivamente lo stato e abbiamo iniziato a pagare. Quindi ci sono delle rate da pagare in varie situazioni. Quindi non so, all'inizio quando si dà il mandato, poi quando c'è l'abbinamento, quando si sta per partire. Insomma ci sono delle tranche da pagare. Che cosa è successo? Nel nostro caso noi abbiamo preparato tutta la documentazione e l'ente sa e vi indica quale documentazione dovete preparare. Credetemi, è una cosa lunga perché ci sono un sacco di fogli che devono essere tutti protocollati perché se no non hanno valore all'estero. Quindi vanno recuperati un sacco di fogli, un sacco di documenti che vanno poi portati in prefettura, alcuni devono essere prima autenticati in comune. È una storia lunga, però alla fine insomma noi ce l'abbiamo fatta. Quindi si fanno tutti questi fogli e addirittura noi abbiamo preparato l'album da inviare in Peru, tutto colorato, con le foto della famiglia, degli amici, della scuola, della casa, eccetera, perché sarebbe stato l'album che avrebbero presentato al bambino o alla bambina nel momento dell'abbinamento. Una volta mandato tutto in Peru viene tradotto e poi inviato. Io vi parlo del Peru perché questa è la mia esperienza, però credo che a grandi linee questa prima fase sia uguale un po' per tutti gli stati. Dopo la traduzione viene mandato tutto all'ente che si occupa di adozione. Qui sono iniziati per noi i problemi. I problemi sono, diciamo, dovuti soprattutto a due, diciamo che i motivi sono stati due grandi. Il primo è il fatto che il Peru in quel periodo ha cominciato a rallentare enormemente le adozioni, pochi abbinamenti, tante richieste di documenti aggiuntivi, cioè noi ci siamo ritrovati a dover rimandare più volte lo stesso documento perché magari veniva fatto scadere, dovevamo ripresentare, quindi non avevamo, in realtà io e mio marito non siamo mai entrati in lista in Peru per un abbinamento, quindi eravamo proprio all'inizio perché eravamo bloccati all'inizio delle pratiche. Il secondo tipo di problema invece è derivato dall'ente, questo ente che con noi ha lavorato non male di più, quindi quando vi dico che ho fatto fatica, abbiamo fatto fatica a portare a termine questo percorso adottivo, io non sto mentendo, adesso rido, ma io ci sono stata veramente male per questa cosa, quindi un ente che non ci diceva le informazioni, non ci dava le informazioni di cui avevamo, no bisogno, diritto, di cui avevamo diritto, e ci dava informazioni false, noi per esempio a me una volta hanno detto, ah sì abbiamo notato che il Peru sta facendo un po' di storie, tante coppie ancora continuano a chiedergli documenti, ma perché, ma perché, ma poi a noi chiedevano tipo certificato di residenza, cioè documenti anche abbastanza inutili, no? Quindi adesso facciamo un incontro con il referente del Peru, con il referente ad ozioni internazionali, insomma con un sacco di personaggi importanti, questo incontro non è mai stato fatto, mi hanno risposto alla fine, no no non c'è stato bisogno, voi dovete solo aspettare, vedrete che andrà tutto bene, per farvi capire il livello, in più email, 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 mandavo di continuo per sapere se la nostra pratica stesse andando avanti in Peru, e loro mi rispondevano quando mi volevano rispondere, sempre con le solite scuse, quindi cose tipo, la traduttrice è molto anziana, lei ci vuole molto tempo per tradurre, oppure la nostra referente in Peru, non è proprio molto sveglia, quindi in questo momento è occupata con una coppia che è lì in Peru ad adottare, quindi non ce la fa star dietro alle altre pratiche, per farvi capire, cioè considerate che una coppia in Peru ci sta 55 giorni circa, quindi io 55 giorni non potevo fare domande perché questa è impegnata con questa coppia, va bene, oppure se capitava magari ad agosto o a dicembre, eh ma noi siamo in vacanza, dopo tutto anche noi abbiamo diritto di andare in vacanza, cioè è stata veramente una cosa ridicola, una cosa ridicola, io ci sono stata veramente tanto male, tanto che sono passate, ma io penso più di un anno, quasi due anni, fermi, bloccate sempre allo stesso punto, al che abbiamo deciso di cambiare ente, cambiare ente significa perdere i soldi che abbiamo pagato fino ad allora, lo sapevamo e avevamo fatto i conti anche con questo, perché abbiamo detto inutile stare ad aspettare all'infinito, nel momento in cui volevamo cambiare ente è arrivata la telefonata, dell'adozione di Katia dall'Italia, quindi alla fine è andata così, ecco evidentemente doveva andare così, visto come ha lavorato male lente, io e mio marito nel tempo abbiamo pensato di richiedere un rimborso, che non ci, non ci, non ci volevano dare chiaramente, perché erano convinti di aver lavorato bene, ma ve lo dico con molta onestà, perché adesso la faccenda è chiusa, abbiamo assunto un avvocato, e siamo riusciti a recuperare una parte di ciò che avevamo pagato, però abbiamo dovuto comunque mettere in piedi un avvocato, cioè mettere in piedi, mettere in atto un avvocato, perché altrimenti avremmo dovuto perdere tutto, quindi tutto questo per dirvi, non vi fate demoralizzare dalla mia storia, io ho avuto sfortuna sicuramente, però con queste esperienze mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato che non bisogna arrendersi, non bisogna assolutamente pensare che queste persone abbiano in mano la nostra vita, e che quindi noi non abbiamo potere, no, queste persone noi le paghiamo per farci avere un figlio, per aiutarci ad avere un figlio, quindi è il nostro diritto chiedere informazioni, quante volte vogliamo, anche tre volte al giorno se lo desideriamo, è il nostro diritto avere le informazioni giuste, corrette e veritiere, è il nostro diritto essere tutelati quando lo chiediamo, soprattutto se ci accorgiamo che le nostre pratiche vengono un po' lasciate in disparte, quindi questo in realtà deve essere un insegnamento per chi si sta approcciando a questo percorso e chi sta scegliendo l'ente, scegliete qualcuno che vi prenda a cuore, che prenda a cuore il vostro caso, perché questo è l'unico modo per vivere serenamente anche questa attesa, perché di questo si tratta, dopo che avete mandato i documenti, il resto è attesa, quindi scegliete qualcuno che sia umanamente vicino a voi, perché se io tornassi indietro sicuramente farei così, e basta, credo più o meno di aver detto tutto riguardo alla scelta del lente o quello che so io, che ho fatto io, secondo la mia esperienza, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi siete in queste fasi, perché so che molti di voi stanno adottando, quindi ci sono tante cose di cui parlare, fatemi tutte le domande che volete, mi farà piacere rispondere se non ho detto, ho tralasciato qualcosa qui in questo video, e niente, noi ci vediamo presto in un altro video, e prossimamente andrò anche avanti con il racconto della nostra storia di adozione, per il momento vi saluto e a presto, ciao!